Il Gaglia si mette in fusa, Jovetic la chiude! Palla che transita un'unghia alla sinistra del palo di Gilles. Geniale l'idea di Stefan Jovetic di prima. Diamanti, tagliato, testa di Raggi, Ramirez al volo di destro, manca il pallone. Uno contro uno con Puzetti, Jovetic, finta, elegantissima di Jovetic, che poi manda dentro per Amaury, Gilles! Montolivo, sull'inserimento, Montolivo, il traversone per Jovetic, che si tuffa di testa con Raggi. Bella la sponte di Amaury, grande idea di Jovetic, Amaury, Gilles! Con le unghie, inchioda lo 0-0. Servito su una corsa di Vaio, allunga per Diamanti, Diamanti! Boruz, baratona, pallone ancora vivo, Diamanti sfonda! Al secondo tentativo, Alex Diamanti! Alla mezz'ora il Bologna sblocca il derby, è 1-0! Cassani, arriva al traversone per Amaury! Gilles cosa ha preso? Una parata d'istinto da campione vero! Giocabile per Cassani, dietro, lo scarico di Morchio è arrivato! Con i tempi giusti di inserimento! Sul posto Montolivo, poi va da Di Vaio, Di Vaio pallone un po' largo, lo lavora comunque sul primo palo! Che gol! Che gol è il ninho!